A volte mi sembra proprio che le nostre giornate abbiano qualcosa all'interno che somiglia al tempo fuori, non solo per meteoropatia, ma perché in certi giorni piove dentro di noi, come diceva Calvino riprendendo Dante, che piove a volte anche dentro la fantasia. A volte invece sentiamo un gran calore che sembra della primavera che comincia, altre volte effettivamente siamo come irrigiditi da nevicate che vengono da lontano, da venti siberiani che soffiano dentro le nostre orecchie e allora ricostruire tutto questo significa mettere in gioco gli stati d'animo che sono la cosa più imprendibile e più decisiva però per scrivere qualunque storia. A volte c'era chi, dopo un provino è andato male, tornava con il rancore, io ho seguito tutte le tue indicazioni, aggiungeva, non è servito, non sono piaciuto, prova a rifarmelo come l'hai fatto davanti agli esaminatori, lo sfidavo, avrei dovuto dirgli non sei portato, quello però si piazzava lì concentrato come poche altre volte e faceva l'inizio del secondo atto quando Macbeth parla alla sua spada, non ti stringo eppure ti vedo sempre e a questo punto fingeva proprio di sguainarla, la agitava davanti al viso dicendo i miei occhi si sono fatti zimbello degli altri sensi, era ispirato quanto goffo, mesi, mesi di dizione non erano bastati a chiudere la O di ancora, quando diceva io ti vedo ancora, lo fermavo, basta dicevo, la prossima volta preparati un altro monologo, mi guardava malissimo e da come si asciugava il sudore delle mani sui pantaloni, capivo che si sarebbe arreso.